Rivoluzione su Viale Corrado IV. L'approvazione in giunta della delibera che riguarda la convenzione tra Comune dell'Aquila e Strada dei Parchi dà il via al terzo lotto del progetto che sostanzialmente cambia totalmente la viabilità tra Viale Corrado IV e il casello dell'Aquila Ovest. Si tratterà appunto di una mini rivoluzione, anche questo intervento è stato oggetto di ritardi, anche se c'erano già sia il progetto definitivo che esecutivo e la gara di appalto già portata avanti. L'approvazione della delibera risale a qualche giorno fa. I consiglieri Paolo Romano e degli Aserpetti del Passo Possibile, anche in Consiglio Comunale, avevano sollecitato il sindaco e l'assessore Liris in merito a tali ritardi. I lavori costeranno 2 milioni e 200 mila euro, una cifra che è già coperta comunque nel bilancio 2018-2020. La zona di Viale Corrado IV negli ultimi anni era divenuta un vero e proprio imbuto con traffico e incidenti. Secondo tale progetto sarà realizzato un anello con il vertice che sarà la rotatoria tra via Piccinini e via Le Corrado IV e una bretella che sarà realizzata ex novo all'imbocco del casello autostradale e servirà da punto di incontro tra le due statali 80 e 17. Il quadro conoscitivo del nuovo piano urbano della mobilità sostenibile, redatto dall'assessore Carla Mannetti, aveva già messo in luce le difficoltà dell'area. Con questo intervento invece si elimineranno gli incontri tra l'autostrada e le due statali e si renderà il traffico più fluido in una delle arterie più congestionate al momento e di accesso alla città dell'Aquila. Ovviamente per realizzare i lavori ci sarà una modifica ai sensi di marcia sull'80 e sulla 17. Chi arriverà da Viale Corrado IV da via Piccinini e vuole uscire dalla città non potrà più immettersi sulla 17 come accade oggi, ma dovrà percorrere la 80, percorribile solo in un senso di marcia fino al casello dell'autostrada. Contestualmente sulla 17 dall'Aquila Ovest in poi ci sarà una direzione obbligatoria verso Viale Corrado IV. Per portarsi sulla statale 80 si dovrà arrivare alla rotatoria tra via Piccinini e Viale Corrado IV stesso o sfruttare una bretella ma molto più piccola che sarà realizzata a pochi metri di distanza.